queste quattro radio sono di nazareno della provincia di mantua non ho fatto in tempo a finire una radio con saturn un guaiato proprio al massimo che già si presenta un altro lavori che non non presagiscono nulla di buono allora mi scrive qui che il galaxy non si accende poi dice in banda ssb si sposta di frequenza non so come ha fatto stabilirlo visto che non si accende come si fa stabilire se si sposta o no non si accende aumentare la potenza più possibile aggiungendo potenziometro sul retro per pilotare la potenza lo smitter non funziona dagli una controllata generale alan 48 non so di preciso cosa abbia non so che dentro hanno modifiche ma non so di che genere ti metto anche due componenti che mi riferiscono essere loro infatti stanno in quella scatoletta del tabacco i componenti smontati controllare potenze aumentare quanto possibile solita controllata generale mi donna 18 di questo apparato non conosco nulla mi fu regalato da un amico tempo fa e non conosco le problematiche so solo che i leddi che fulgono del simitere non funzionano vediamo un po cominciamo con il primo speriamo che ci va bene infatti non accende adesso lo apriamo e vediamo questo è l'interno della radio questa era libero qui c'è una scheda eco auto costruita e un relè qui libero pure dalla parte di sotto credo il motivo quale per il quale non si accende c'è questa pista carbonizzata cotta adesso ci metto un pezzo di filo vediamo che succede ho sistemato quella pista che era danneggiata adesso si accende però non vale allora come portante a questa potenza modulazione nemmeno si muove adesso controllo meglio vediamo un po di che si tratta ci deve essere qualche problema su questo transistor perché se io anche se vr 13 qua lo ruota al massimo la potenza è sempre quella adesso le smonto provo pure un po i finali vediamo un po che non sembra che sono suoi non sono stati toccati e niente questi li ho provate sono buoni i finali sono buoni non so non so cosa hanno ho cambiato pure questo che era sballato questo qua come lo regolavo in qualsiasi modo lo mettevo non c'era variazione di potenza è sempre quella la potenza ora lo controllo meglio poi eventualmente lo chiudo e io lo restituisco perché non so se hanno cambiato qualche componente specialmente qualche condensatore e io non so dove andarlo a cercare specialmente lì sullo stadio finale vediamo un po se posso sistemarlo oppure questi due induttori carbonizzati evidentemente il corto non si è fermato al dio di protezione ma è andato avanti e avrà danneggiato qualche componente attivo qualche transistor adesso ci perdo un altro poco di tempo poi se non riesco magari lo metto da parte allora non c'era nessun componente attivo danneggiato era soltanto che magari chi ha tentato di sistemarlo sempre naturalmente armato di buona intenzione che se uno si mette vicino a radio lo fa per cercare di sistemarlo evidentemente non ho ottenuto risultati e poi le bobine variabili sono rimaste nel punto in cui le ha lasciate di conseguenza non avevo potenza in uscita adesso l'ho sistemato ho sistemato pure qui l'entrata dell'alimentazione ho messo il potenzione per regolare la potenza qui la potenza minima qui la potenza massima questo qua l'ho aggiunto questo non era buono questo l'ho aggiunto io per la potenza minima ho fatto l'allineamento adesso devo solo sistemare la scheda eco perché è collegata con un filo rigido qui a questa a questa bobbina variabile ma voglio sistemarla meglio e poi ci mettiamo il fiocansimetro e lo proviamo risolvo risolvo un problema ne viene fuori un altro adesso in banda laterale la ricezione riesco a regolare le semitere da questo qua da questo qua in am non riesco a fare la regolazione è sempre lo stesso segnale ma lo sostituisco perché si vede che molto probabilmente li hanno sostituiti questi trimmer infatti questo c'è questo segno qua da 10.000 questo pure 10.000 è diverso questo è diverso da questo adesso vediamo se lo trovo qualcuno cambiato adesso funziona non c'è anche questo mi ha fatto un po tribolare però alla fine siamo riusciti a sistemarlo allora voglio aggiungere che ci ho cambiato lo strumentino perché quello era sballato ho cambiato anche il potenziomero del microfono perché a metà corsa poi non andava bene più non sentiva niente ho sistemato la scheda eco per bene ho eliminato quel relè che c'era qui ho usato un altro sistema per per la commutazione e adesso adesso lo proviamo volevo dire che queste quali ho messo da parte si possono perdere facilmente perché già due mancavano poi ho girato nella confezione li ho trovati si erano staccati adesso li mettono una bustina e li do separatamente queste qua così quando arriva lì per evitare che si perdono quando riceve la radio poi gliele mette lui allora siamo con la potenza minima sono 4 watt ola ola oltre 20 di picco aumentiamo l'ho regolata per 12 13 watt potrebbe aumentare però meglio lasciarla così ola oltre 20 passiamo sull'altra scala ola 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 andiamo in banda adesso ola 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 andiamo sull'altra ola 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 e quindi abbiamo concluso con questo adesso passo a uno dei due alan